Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo retro gaming di Dantes Inferno Oggi proseguiamo Non mi dire che devo tornare indietro e buttarmi velocemente Una parola No, no, non si muove, forse no Era meglio che non parlavo, invece si sta muovendo Veloce, veloce, veloce Veloce, veloce No, 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 non si muove Grazie. Grazie. Chiuse, fin quando da Giosafatte, col giudizio universale, torneranno coi corpi della sua lasciata. Ora siamo sicuramente sopra il 60%. Mi chiedo se in questo video riesco ad arrivare sopra il 70%, anche se la vedo improbabile come cosa. Grazie. 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 Qui facciamo un salvataggio. Ok. Grazie. 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 parte d'inferno epicuro e tutti i suoi seguaci che fa morire l'anima col corpo l'urcimiteno oh tosco quando sarai dinanzi a beatrice radiosa capirai del viaggio della tua vita allora qua fallo la scomunica era una punizione troppo dura da sostenere no sfiderò la mia corona la mia terra no 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 Oh, finalmente! Ho perso un po' di vita, però saliamo comunque qui. Un po' di... Ho d'acqua. Che! 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 salva subito il problema è che bastanti questi non li posso ammazzare col potere il 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 ok 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 una vita a dio me la danno veramente e di là come ci vado mi sta sfuggendo qualcosa ah forse ci sarà un altro passaggio poi io ero nuovo alla morte quando vedi il possente scendere e trarre un gruppo di antiche ombre il primo parente abel e suo figlio noè abramo e molti altri da tutte parti l'alta valle oscena tremò si chi pensai che l'universo sentisse amore gioco come aspetto di noi nemici quindi salvo no oggetti scorre aspetta ma qua sopra da andare ok però c'è il problema del fuoco se non che non ho capito una mazza qua io anche se ce la stava in qualche modo ce la facendo e allora perfetto perfetto eccole qua perfetto perfetto No, 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 no. 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 Qui per sicurezza salvo. Ah però questi li posso ammazzare con quella cosa... No, no. Ecco. Eh ma, ok Insieme faremo cessare le vende Nooo, possiamo fare un accordo Ok, qua salvo Perché devo capire adesso dove andare Ok, di qua vedo Ok, non c'è So che devo fare perché a parte questi due non vedo altre strade Di nuovo? Qui non c'era nulla E là non c'è manco nulla Ah, 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 ecco dove era Ho l'impressione che devo tornare di nuovo solo Allora Allora No, forse non c'è visto di tornare indietro Ovviamente è un forse perché non sono sicuro io Aspetta, mi fa buttare Di là Che devo capire una cosa Non, 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 non mi fa buttare Allora Ah Ecco il passaggio. Salva subito, salva subito, e devo essere rapidissimo qua. Ma vaffanculo. Dai, ma che cazzo però? E non mi salta, ma veramente? Ci mette pure che non mi salta. Perché non salta, porca buttana? No, ma allora è ritardato. Ma che cazzo? Non mi fa il doppio salto. Sì, va. Questo crolla o no? Non lo capisco io. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ok. Figlio, dentro questa restante grotta ci sono altri tre cerchi, uno sotto l'altro, tutti di spiriti maledenti pieni. Il primo cerchio è di violenti pieno. E poiché violenza si forza a tre persone, in tre gironi esso è distinto. Violenza verso il prossimo, verso se stessi e verso Dio. Forse finiamo. Forse, però. Sparo liberi. Ho un po' di potere, sì. Allora prima che concludiamo, aspettalo un attimo. D4, qui per 4, quindi non cambia nulla. Perfetto. Li saldiamo di nuovo. E secondo me tutto il potere non riesco a farlo. C'è ancora, ce ne sono da sbloccare cose. Va bene. E se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace. E noi ci vediamo. Alla prossima. Ciao.